buongiorno a tutti sono andrea guarniero sono un fotografo semi professionista e stasera voglio farvi un come si dice un tutorial sullo strumento strumento correttivo e strumento correttivo al volo allora lo troviamo qui sulla barra laterale sinistra il primo e questo qui sono due che si assomigliano il primo allora per girare per girarli per ruotarli si bisogna pigiare control e alt insieme li pigiamo e poi cliccandoci sopra tanto il primo si chiama strumento correttivo al volo che è quello che noi di cui parleremo ora poi cliccandoci sopra abbiamo questo che invece lo strumento pennello correttivo sono due cose simili però come si dice hanno due funzioni un pochino diverse ora li facciamo girare ci sono anche gli altri ora ve li fa vedere e ritorniamo a questo allora questo qui lo strumento pennello correttivo al volo serve come si è visto anche dalla dalla figurina per generalmente per nascondere le macchie in questo caso abbiamo un ragazzo giovane con della pelle con i brufoli e quindi in questo caso è adatto il bisogna regolare la grandezza del pennello qui abbiamo la durezza la durezza vuol dire quanto cioè se una cosa è tonda se prende tutto il diametro o sfuma dalle parti e invece gli diamo durezza 100 quindi che come si dice che è tutto come si dice fra l'effetto per tutto il diametro la grandezza in questo caso è 10 io lo lascio 10 e poi perché mi sembra più o meno sia grande quanto le macchie che abbiamo allora a questo punto basta andare su una delle macchie e cliccarci sopra e vedete lo sposto riclicco un'altra volta e la fa scomparire possiamo anche qui ancora ci clicco però questo possiamo anche cliccare con il tasto destro e poi trascinare e funziona uguale come prima guardate anche qui mette più lunga clicco col tasto destro e trascino e quasi disegno e va via o se no clicco poi lo sposto riclicco poi lo sposto e riclicco e questo qui facciamo anche sotto facciamo anche sotto qui lo posso trascinare scusate qui lo clicco qui lo clicco o se no posso trascinare clic e tasto destro e trascino è andato via non è perfetto perché non è fatto per questo è meglio andarci sopra ingrandirlo nella maniera che ci piace e cliccare funziona meglio o almeno mi è sempre sembrato così ora cambiamo l'immagine e andiamo a vedere invece l'altro pennello allora facciamo control e alt insieme e clicchiamo sopra e questo qui è lo strumento pennello correttivo lo strumento pennello correttivo serve per se abbiamo delle rughe per come si dice per cancellare una ruga quindi una cosa lunga o rettilinea quindi la prima cosa che dobbiamo fare è trovare un punto che ci piace da sostituire lo alla ruga e cliccare il come si dice con a prima cliccare alt col alt e poi che vedete che cambia viene un mirino e poi cliccare il il sopra a quel punto andiamo sulla ruga cliccare con il tasto destro e trascinare vedete c'è una crocettina che segue quindi andare fino a cancellare la ruga ora voglio farvi vedere un'altra cosa se torniamo indietro annulla e quindi è tornata la ruga se io però mi metto qui e con alt clicco qui scelgo questo punto qui e quindi viene vedete c'è tipo il mirino e ha preso quel punto lì quando io parto a con pigio il tasto destro e parto a cancellare la ruga il mirino va a finire sul nero e a quel punto non come si dice non sceglie più il bianco ma sceglie certe volte anche parte del nero quindi attenzione a dove clicchiamo e alla distanza che dobbiamo percorrere per togliere questa ruga togliamo anche questa tasto destro e scendiamo giù bene questo è tutto per oggi e va usato nelle diverse situazioni generalmente si toglie le macchie prima di fare uno smoothing della pelle prima di lisciare la pelle e di dargli un po' di luminosità e dopo invece si fa agli occhi vi ringrazio per questa sera spero che avete capito quello che che ho detto e che più che altro che se io sia stato chiaro e vi ringrazio per aver ascoltato e alla prossima e vi ringrazio per aver guardato il video